La misericordia che riceviamo dal Padre non ci è data come una consolazione privata, ma ci rende strumenti affinché anche altri possano ricevere lo stesso dono. Vivere di misericordia ci rende missionari della misericordia. Lo ha detto Papa Francesco ai pellegrini presenti in Piazza San Pietro per la prima udienza giubilare dell'anno santo della misericordia. Nella catechesi dedicata allo stretto legame tra la misericordia e la missione, il Papa ha ricordato che come cristiani abbiamo la responsabilità di essere missionari del Vangelo. Quando riceviamo una bella notizia o quando viviamo una bella esperienza è naturale che sentiamo l'esigenza di parteciparla anche agli altri. E dovrebbe essere la stessa cosa quando incontriamo il Signore. La gioia di questo incontro, della sua misericordia, comunicare la misericordia del Signore. Anzi, il segno concreto che abbiamo davvero incontrato Gesù è la gioia che proviamo nel comunicarlo anche gli altri. E questo non è fare proselitismo, questo è fare un dono. Ma io ti do quello che mi dà gioia a me. Incontrare Gesù, ha concluso il Papa, equivale a incontrarsi col suo amore. E questo amore ci trasforma e ci rende capaci di trasmettere agli altri la forza che ci dona. Quando veniamo battezzati riceviamo un nuovo nome in aggiunta a quello che ci danno i genitori. È Cristoforo. Tutti siamo Cristofori, cioè portatori di Cristo.